Si chiama Operazione Amarcord la complessa attività di polizia giudiziaria e tributaria portata a termine dalla Guardia di Finanza pesarese. Le indagini svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro si sono concentrate su un imprenditore pesarese operante nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande che comprava sistematicamente merce sotto costo attraverso società cartiere, alcune delle quali create da lui stesso, per poi rivenderle ad un prezzo vantaggioso rispetto ai suoi concorrenti, alterando così la normale concorrenza tra imprese in quel settore. L'imprenditore, un 68enne di Pesaro, si è dimostrato non solo consapevole della provenienza della merce, ma parte attiva nel sistema di frode che ha interessato anche società al di fuori della provincia pesarese. I militari, ricostruendo l'incidenza percentuale delle fatture false utilizzate dall'uomo sul totale delle fatture di acquisto, hanno rilevato una percentuale di circa il 75% ogni anno. Lo stesso imprenditore è risultato avere diversi precedenti per un totale di pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione. Oltre all'imprenditore sono stati denunciati dalle fiamme gialle anche i prestanomi di alcune delle società cartiere per un totale di 4 denunce effettuate ed è stato rilevato un giro di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di 25 milioni di euro e un'iva non versata pari a circa 1,2 milioni di euro. Il tutto tramite l'utilizzo di tre società riconducibili alla gestione della stessa persona. È stato poi eseguito un sequestro preventivo per equivalente riferito all'imposta evasa. Ad oggi sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie per oltre 70 mila euro e sono in corso ulteriori accertamenti al fine di individuare ulteriori beni e disponibilità riconducibili all'evasore. A chiusura dell'indagine, infine, è stato anche applicato il disposto normativo relativo all'indeducibilità dei costi da reato.